Arnautovic è andato in gol al novantesimo, ho visto gli Highlights. Marco, caro Marco, o Marco? Marco? Arrivano le partite, arriva la Champions e ci servi tantissimo, Marco. Spero che questo gol ti abbia aperto, ti abbia aperto la via del gol, Marco, Marco, ci servi tantissimo, ci servi tantissimo, che la fortuna sia con te, Marco. Sono stanco ragazzi, ma l'Inter non si molla mai.